Nelle ultime settimane, l'attenzione dei media è stata catturata da uno degli scoop più attesi dell'anno, le dichiarazioni della moglie del famoso conduttore Amadeus, Giovanna Civitillo. Durante un'intervista esclusiva con la conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, Giovanna ha svelato alcuni particolari commoventi della sua vita, gettando luce sulla sua relazione con il noto presentatore e con la sua prima figlia, frutto di un precedente matrimonio. È stato un momento toccante quando Giovanna si è aperta riguardo al suo legame speciale con la primogenita di suo marito, che ha conosciuto quando aveva appena 5 anni. Il nostro rapporto è cresciuto e si è sviluppato nel corso degli anni, fino a diventare qualcosa di più profondo di una semplice relazione familiare, ha ammesso la Civitillo con occhi lucidi. Siamo cresciute insieme, lei è stata la bambina che mi ha fatto scoprire il lato materno di me e oggi siamo più di una madre e una figlia, siamo complici, amiche e confidenti. È bellissimo così, ha rivelato con emozione. L'intervista ha permesso ai fan di avere un'istantanea del legame affettuoso tra Giovanna e Amadeus. Il nostro amore è stato un viaggio incredibile. È iniziato con impeto e passione, insieme a momenti di gelosia tipici di ogni storia d'amore intensa, ha condiviso la Civitillo. Ma col tempo, con la maturità, si è consolidato e rafforzato ancora di più. Siamo stati fortunati, è stato un incastro perfetto, ha continuato. Le sue parole dipingono un quadro di un amore che si è evoluto nel tempo, passando attraverso le fasi del primo entusiasmo, fino a diventare le fondamenta solide su cui hanno costruito la loro vita insieme. L'intervista ha anche gettato luce sul rapporto quotidiano tra Giovanna e Amadeus. Ci amiamo come il primo giorno, ha dichiarato con un sorriso. Comunicare è la nostra forza, ci sentiamo cento volte al giorno e condividiamo tutto, dalla vita privata al lavoro. Siamo un team in ogni senso della parola, ha affermato con convinzione. Giovanna Civitillo ha dimostrato di essere non solo la moglie di una celebrità, ma anche una donna che ha forgiato legami profondi e autentici con la sua famiglia allargata. La sua sincerità e la sua genuinità durante l'intervista hanno toccato il cuore di molti, rivelando il lato umano dietro le luci della ribalta. Con queste nuove informazioni, i fan possono sicuramente apprezzare ancora di più la complessa e affascinante storia di Giovanna e Amadeus. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news, lascia un mi piace al video, e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere, e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale. Grazie per la visione!